salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci ritroviamo su genshin impact ed oggi siamo qui perché vi parlerò del mio boy razor razor quando lo curiamo un pochettino razor è fondamentalmente nel team che sto utilizzando io il mio principale dps che cosa vuol dire dps dps ovviamente è una cronimo che sta a significare danni per secondo quindi la capacità di poter effettuare danni di continuo e quindi di conseguenza lasciarlo sul campo da battaglia per permettermi di sconfiggere facilmente tutte le orde di avversari che mi si pongono davanti per quanto riguarda razor ovviamente voglio parlare brevemente in questo video come l'ho bildato io e il perché l'ho bildato in questa maniera quindi parlando di armi e ovviamente di artefatti per quanto riguarda il personaggio ovviamente le sue statistiche il mio per il momento è a livello 60 devo ancora portarlo al 70 però per quanto riguarda i suoi dettagli possiamo notare che i nostri hp massimi sono 7881 più 4812 come attacco 583 più 698 e difesa 495 più 221 per quanto riguarda tutto il resto come crit rate crit damage eccetera eccetera sono comunque tutte statistiche che possono essere aumentate tramite le sub stats che vi ho diciamo vi ho spiegato tramite la realizzazione degli artefatti perfetti quindi se non l'avete visto vi lascio il video magari collegato tra le schede quello di cui dobbiamo parlare è come buildare nella maniera corretta razor allora razor per quanto riguarda il almeno per quanto riguarda il mio punto di vista e soprattutto il gameplay che ho potuto constatare con diciamo l'utilizzo di razor all'interno del party ho analizzato il fatto che lui è un attaccante che tende a sfruttare molto gli attacchi normali e non gli attacchi caricati che cosa vuol dire sfrutta gli attacchi normali e non caricati se noi andiamo in giro per la mappa e andiamo a combattere se potete notare questi sono gli attacchi normali come potete vedere la scarica di tre attacchi è anche abbastanza rapida infatti se io faccio praticamente i tre attacchi sono molto rapidi il quarto che questo fendente praticamente a terra che sbatte la spada a terra è un po più lento rispetto agli altri infatti il mio consiglio per poter utilizzare razor al meglio e fare tanti danni è questo utilizzare le tre combo spostarsi con lo scatto e ricominciare lo scatto praticamente io lo utilizzo non solo per schivare gli attacchi ovviamente degli avversari ma lo utilizzo anche per cancellare la combo che razor sta effettuando in questo momento per ricominciarla da capo e quindi di conseguenza sfruttare i tre attacchi e ricominciare a sfruttare i tre attacchi vedete sono molto rapido in questa maniera nell'effettuare danno anche perché l'attacco caricato per chi non lo sapesse è questo ovvero tenere il tasto premuto praticamente dell'attacco e permettere di effettuare questo tipo di attacco che a mio avviso reputo molto lento e anche abbastanza inutile perché per fare tanti danni in diciamo in tempo in un tempo distretto conviene assolutamente utilizzare la combo rapida e fare comunque tutti questi danni in questa maniera tra l'altro utilizzando la sua energy burst quindi il suo attacco finale tramite ovviamente il triangolo quindi la trasformazione del lupo che viene a formare un susano a tutti gli effetti sulle spalle del nostro razor impedisce l'utilizzo dell'attacco caricato quindi già partiamo dal presupposto che potenziare il suo attacco caricato è assolutamente inutile infatti se noi possiamo notare tramite gli artefatti che possiedo in questo momento abbiamo un doppio set gladiator che mi aumenta l'attacco del 18 per cento è un doppio set brave heart che mi aumenta l'attacco del 18 per cento unito successivamente a una piuma berserker che sarebbe questa che mi consente di aumentare leggermente le mie possibilità di crit rate e crit damage ma fondamentalmente il set che va appunto a sottolineare la mia potenza è quello gladiator insieme a quello brave il set gladiator è quello che io vado a consigliare come set completo per quanto riguarda razor in quanto due pezzi danno l'attacco 18 per cento mentre mentre quattro pezzi addirittura permettono all'utilizzatore della spada della dello spadone claymore o polearm quindi la lancia di avere l'intensità dei loro attacchi normali quindi la potenza dei loro attacchi normali del 35 per cento in più quindi danno effettuato da attacchi normali 35 per cento in più ecco questa è praticamente la il set o comunque la build perfetta per quanto riguarda razor proprio perché razor è uno di quei dps che sfrutta al massimo gli attacchi normali e non attacchi caricati o attacchi elementali un altro set che tendenzialmente aveva associato a razor inizialmente era il set del martial artist set del martial artist che con due pezzi incrementa il danno normale caricato del 15 per cento aumentare il danno rispetto all'aumentare l'attacco io penso che comunque sia inferiore quindi se volete costruire un personaggio che comunque sia un dps o che comunque sia un personaggio forte dal punto di vista offensivo cercate di utilizzare diciamo set che aumentino la percentuale d'attacco quindi che aumentino la percentuale di base quindi l'attacco di base che comunque andrà a comprendere l'attacco in toto quindi sia l'attacco normale che l'attacco elementale che l'attacco che si effettua anche tramite elemental burst quindi diciamo un aumento in toto della statistica che serve sicuramente di più rispetto al danno normale se in queste cifre quindi 15 per cento è comunque di meno rispetto a un 18 per cento di attacco di base quindi molto meglio pompare l'attacco di base tranne ovviamente per il set gladiator che con quattro pezzi aumenta praticamente l'attacco normale addirittura del 35 per cento il che è veramente tanta roba infatti se io vi faccio rivedere le statistiche del mio razzo in questo momento il suo attacco è aumentato di 583 punti di base più 698 che viene attribuito tramite i potenziamenti dei miei artefatti e in generale i potenziamenti che ho a disposizione se io infatti vi faccio vedere i miei artefatti e qualora per esempio dovessi cambiare per esempio facciamo se riesco forse non riesco a farvi neanche l'esempio perché non ho più pezzi non ho più pezzi che in realtà mi possono dare una mano anzi forse sì anzi sì se levo il gladiator praticamente che ho praticamente il martial artist che ce li ho praticamente qui questi qua ecco per adesso switchiamo con xian ling adesso potrete notare che praticamente ho il martial artist che mi dà un danno normale o caricato del 15 per cento e l'attacco del 15 per cento se andiamo nelle mie statistiche guardate quanto è ridotto l'attacco non solo perché gli artefatti comunque hanno sono magari portati a più 12 rispetto a più 9 ok quelle sono delle percentuali in più ma dovete vedere quanto effettivamente si è ridotta la mia potenza di fuoco cioè è di quasi 200 punti più o meno perché prima eravamo a 600 e qualcosa adesso 476 quindi diciamo molto molto più basso rispetto al normale mentre invece l'elmo che tra l'altro è più 8 contro i più 12 del della bandana che avevo utilizzato e il più 9 e più 12 del mio set del del gladiator mi permettono comunque di aumentare la mia potenza fisica di 698 punti quindi sì praticamente 200 punti di differenza che fanno tanto cioè sono praticamente quei 200 300 danni che comunque moltiplicati per tutti gli attacchi che effettua razzo sono veramente veramente tanti infatti se noi adesso andiamo non lo so a cercare magari dei nemici non so se qua magari ne troviamo eccoli ve lo faccio vedere praticamente in azione il mio il mio razzo rino o tra l'altro qui c'è anche un bel boss vi faccio vedere come praticamente di base vedete 600 700 ovviamente qui è molto più alta effettuiamo l'attacco elementale ci consente di ottenere la burst strigioniamo l'elemental burst e come potete vedere anche i danni elementali sono aumentati tra l'altro quando utilizziamo la nostra elemental burst razor non potrà effettuare gli attacchi caricati vedete anche se io sto premendo cerchio tenuto premuto non posso effettuare attacchi caricati quindi è praticamente inutile potenziare gli attacchi caricati sul razzo proprio perché nella sua forma più alta quindi nella sua forma più forte non potrà utilizzare praticamente la sua forma cioè non potrà utilizzare i suoi attacchi più forti quindi di conseguenza è inutile utilizzare attacchi caricati con razzo meglio massimizzare la potenza dell'attacco rapido infatti come potete vedere io effetto sempre il combo da 1 2 attacchi e poi successivamente utilizzo la schivata per resettare il tutto e continuare a fare danno ovviamente c'è da dire che la potenza di razzo viene anche accompagnata da un elemento di tipo fuoco o di tipo ghiaccio proprio perché tramite fuoco possiamo ottenere la potenza di overload quindi abbiamo la possibilità di potenziare i nostri attacchi grazie al fuoco e il fulmine che insieme collaborano per essere forti quindi consentono di essere decisamente più forti oppure utilizzare il ghiaccio insieme al fulmine per fare over charge non mi ricordo qual era il potenziamento adesso però sì ci consentono praticamente di ottenere la potenza di fuoco maggiore per quanto riguarda l'azzo e overload per quanto riguarda fuoco e fulmine mentre invece over charge se non ricordo male per quanto riguarda fulmine acqua comunque anche la combo fulmine ghiaccio e fulmine non ricordo decisamente come si chiamava electro charge e acqua l'over charge non so dovrei andare a leggere ma sono troppo pigro per poterlo fare comunque come avete potuto vedere i danni di razzo sugli attacchi normali spingendo soprattutto la potenza d'attacco è praticamente fondamentale infatti riuscivo a fare diversi danni come avete visto 1200 1300 addirittura anche 1400 che mi consentivano di di essere veramente incisivo senza considerare il fatto che comunque l'arma che utilizzo mi aiuta anche infatti l'arma che sto utilizzando è la prototype animus arma 4 stelle che può essere forgiata completamente in maniera gratuita grazie al progetto claymore che si può ottenere tramite gli anemo o i geopoints nel nell'item shop o comunque nel souvenir shop che sarebbe praticamente il negozio rappresentato dalla gemma dal diamante praticamente ve lo faccio vedere o tra l'altro devo fare le daily vero le farò dopo ecco praticamente questo shop che sarebbe il souvenir shop dove avrete la possibilità di poter acquistare tramite i punti geo il prototipo della claymore per poterla poi successivamente craftare dal fabbro con 50 white ingot e 50 crystal ingot che si trovano ovviamente in giro per la mappa o presi durante le vostre daily daily routine o le spedizioni giornaliere che vi consentono appunto di ottenere questi materiali una volta ottenuti i progetti delle claymore dal diciamo dal vostro shop si potranno ottenere altri progetti di claymore affrontando affrontando il lupo il lupo boreas come potete vedere lì in fondo possiede praticamente i progetti senza considerare anche la possibilità di poter ottenere artefatti gladiator che sarebbero praticamente perfetti per razor oppure affrontare lo storm terror che praticamente una volta a settimana insieme al lupo vedete vi consente anche di ottenere i progetti della claymore per poter craftare ovviamente le spade 4 stelle e craftando più spade 4 stelle ovviamente identiche avrete la possibilità di aumentare il raffinamento e il raffinamento di questa spada io lo consiglio in maniera molto molto particolare proprio perché se vi faccio vedere la descrizione dell'arma come potete vedere quando si effettua una hit normale o caricata si ha il 50 per cento di possibilità di infliggere un danno addizionale del 300 per cento in base all'attacco che ovviamente abbiamo al nostro nemico e questo attacco tra l'altro effettuerà danni aoe quindi questi 300 per cento di danni in attacco verranno spartiti in modo aoe quindi contro tutti i nemici che abbiamo attorno e questo effetto può essere diciamo può essere attivato ogni 15 secondi quindi durante una battaglia avere questo tipo di effetto potrebbe essere anche molto comodo non ricordo voglio controllare un attimo se anche i boss possiedono no questi no questi no non hanno i progetti per le armi però possiedono comunque il set gladiator quindi qualora vogliate poi farmare successivamente il set gladiator e avere un po di fortuna si può effettivamente fare anche tramite i boss per il potenziamento del livello è anche molto importante per quanto riguarda razzo aumentare il talento per quanto riguarda il normal attack steel fang aumentando ovviamente il talento di razzo abbiamo la possibilità come potete vedere di aumentare i danni per tutte quante le it quindi abbiamo addirittura 118 per cento sulla prima it 101 per cento sulla seconda 127 sulla terza e poi addirittura 167 sulla quarta ma noi non utilizzando quasi mai la quarta it abbiamo sempre praticamente questo 300 per cento di danno che continuiamo a fare ai nostri avversari e quindi è tanta roba molto importante anche aumentare cloud and thunder proprio perché quando utilizziamo questo questo particolare effetto abbiamo la possibilità di prendere praticamente degli electro sigil che sono praticamente non so se ci avete fatto caso quelle specie di palle alle spalle del nostro del nostro personaggio che ci consentono ovviamente di ottenere dell'energy recharge ogni sfera che noi andiamo ad accumulare alle nostre spalle ci dà praticamente 5.0 punti di percentuale per quanto riguarda l'energia rigenerata che una volta rilasciata con la skill prolungata quindi quando fate il press skill damage ottenete una sfera quando invece fate la hold skill damage quindi tenete premuto il pulsante quindi per farvi rendere conto questo sarebbe il press come potete vedere che riduce il cooldown praticamente a tre secondi veramente molto poco ci consente di ottenere una orb che viaggia sulle nostre spalle nel momento in cui noi faremo questo l'attacco caricato ci permetterà di assorbire questi sigilli che abbiamo alle spalle dandoci praticamente un 5.0 come punteggio per quanto riguarda la nostra energy absorb quindi nel momento in cui avremo tot sfere avremo la possibilità di caricare subito già l'ultimate e quindi essere praticamente forti perché andiamo subito ad attaccare e andiamo subito praticamente ad effettuare danni per quanto riguarda il resto di razzo ovviamente non ho nient'altro da dover aggiungere gli artefatti vi ricordo il set migliore è quello gladiator quindi vi consiglio assolutamente di utilizzare il set gladiator per quanto riguarda l'arma vi consiglio in questo caso la prototype animus che essendo una 4 stelle tra l'altro anche craftabile in maniera gratuita se vogliamo dirla così è una delle spade migliori da poter ottenere poi giustamente se si ottengono altri tipi di armi altri tipi di armi 5 stelle o quello che è va benissimo l'importante è che comunque si abbia come riferimento un'arma che tenda ad aumentare i danni effettuati con attacchi normali non tanto quelli caricati e che soprattutto possa effettuare tanti danni anche possibilmente a oe un'altra arma che consiglierei per razzoor possibilmente è anche la mazza la debate club che essendo 3 stelle è anche abbastanza semplice da poter ottenere tramite varie pull questa qui praticamente dopo aver utilizzato un elemental skill gli attacchi normali e caricati effettuano un danno addizionale del 120 per cento con un piccolo radius a oe e questo effetto potrà essere ovviamente attivato ogni 15 secondi e il danno invece può essere inflitto ogni 3 secondi quindi anche quest'arma in realtà non è assolutamente male per razzoor certo esteticamente non è un granché me ne rendo conto però come effetto per essere comunque un'arma tre stelle quindi diciamo praticamente gratuita perché si può ottenere molto facilmente non è male non è affatto male però io il mio consiglio è utilizzare la prototype animus infatti già sono al secondo refine perché sto cercando di ottenere le copie delle dei progetti claymore in un modo o nell'altro per aumentare il danno che posso effettuare ogni 15 secondi soprattutto a oe quindi molto molto interessante per quanto riguarda il resto non c'è nient'altro che vi devo dire quindi potenziate compate l'attacco soprattutto di razzoor e cercate di aumentare i danni che si effettuano tramite attacchi normali però tra effettuare più danni tra attacco normale e aumentare l'attacco io consiglio assolutamente aumentare l'attacco se volete potete anche sfruttare il crit rate per ottenere bonus di danni critici ma se siete fortunati con gli artefatti ed ottenete le percentuali di critico nelle sub stats praticamente è anche meglio io purtroppo non ho tantissimi non ho tantissimi artefatti che mi danno comunque un crit rate aumentato ho soltanto il fiore che mi dà un 4.7 la piuma che mi dà un altro 3.1 però tutti gli altri vedete ho soltanto crit damage ma non possiedo praticamente crit rate il che un pochettino mi penalizza se riuscissi a trovare artefatti che mi potenziano il crit rate sarei anche un pochino più contento anche perché se vi faccio vedere il mio crit rate purtroppo è soltanto del 12.8% e il danno è del 64.9 quindi non è tantissimo come crit rate e crit damage infatti sto tentando di potenziare l'attacco normale proprio per non sperare di effettuare danni critici e quindi fare danno comunque a prescindere senza la necessità di dover stare lì a pregare per ottenere qualche critico quindi penso che come build free to play o comunque come una build per questi livelli quindi partiamo livello 50 livello 60 penso possa essere il compromesso migliore potenziare l'attacco senza troppi sbattimenti senza farming di artefatti che sicuramente si potranno fare più in là e non ovviamente a un rank 35 come me e livello 60 quindi il mio consiglio è prevalentemente questo aumentate l'attacco e aumentate la possibilità di fare danni normali e sfruttate appieno tutto il potenziale di razzo detto questo io spero che questo video possa esservi stato utile fatemi sapere se vi interessano altre build anche perché ho 20 che è molto molto forte buildato nella maniera come diciamo l'ho costruita io e mi piacerebbe parlarne poi ho anche bennett o tutti comunque personaggi che utilizzo all'interno del mio party che posso analizzare in questa maniera fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di video se vi interessano e nel frattempo cercherò comunque di lavorare anche a per quanto riguarda gli altri personaggi cercherò di snellire un pochino il tutto datemi dei consigli se volete che parli di qualcosa nello specifico penso di aver detto tutto nello specifico per quanto riguarda razzo e il suo ruolo da dps ma se mi è sfuggito qualcosa non esitate a scrivermelo nei commenti che vi risponderò all'istante se riuscirò a rispondervi o addirittura parlarne poi successivamente in live su twitch detto questo vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima